dai ragazze siete pronte? dai vediamo che giochiamo al gioco dei monumenti no dai oh ma dai allora cominciamo questo che cos'è? la piramide brava e questo? la reina di verona giusto e questo? il circo massimo il circo massimo ah questo 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 che cos'è questo? colosseo? arco di trionfo? cosa potrebbe essere? il duomo di colonia? brava è un arco a sesto acuto tipico del gotico e c'è anche il duomo di colonia naturalmente è un arco a sesto acuto è un arco ogivale è la parola desueta di oggi che significa appunto fatto ogiva avete presente? no come l'arco a sesto acuto no non l'avete presente come i proiettili tipo no? i proiettili lo space shuttle ecco comunque la punta lì oggi vale la parola desueta di oggi av autopista si troppa giusto davis Grazie a tutti.